ok questo qui è l'incrocio con corbezzoli qua si scende di qua perché hanno fatto una variante e perché c'è stata una frana ora andiamo giù di qua pangazzer qui è un po una merda devi fare un po di trial qua dai freni vai giù liscio vedi che va tutto oh che bello sto lente qua nemmi revoli qua dal beudi prendilo corri in corsa perfetto il Grazie a tutti. Percorso perfetto, pulito, appena pulito. Ok, eccoci arrivati. Quindi tra poco stiamo alla variante, il nuovo pezzo che hanno fatto per evitare il tratto finale che si è un po' scassato, è scassato un po' tanto. Ecco qua, questo era il pezzo finale e noi invece siamo dritti di qui. Minchia che lavoro ragazzi, che lavoro! Fantastico! Ok, qui era la strada vecchia, noi si va di qua. Che lavoro! Hai visto che roba? Siamo arrivati in incrocio con l'isola. Boutil, un carmezzo lì, l'isola. Ok. 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 Ok.